ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video campagna kickstarter in corso un prodotto che ho ricevuto in anteprima per farvelo vedere dal vivo e non solo sul sito di kickstarter piattaforma sicura lo sappiamo non abbiamo problemi quindi acquistate tranquillamente sostenete il progetto se volete portarvi a casa un oggetto interessante è un ottimo prezzo l'oggetto interessante qual è mi avete chiesto più volte un estensione per monitor che non ho mai provato non ho mai recensito quindi ho colto l'occasione per aiutare questa azienda con cui ho già delle collaborazioni e proporvi un prodotto a un prezzo vantaggioso è un monitor un estensione si attacca allo schermo che già avete nel portatile praticamente va a estendere la superficie di lavoro non direi di gioco perché non ha prestazioni altissime postazione di lavoro quindi con due monitor e un desktop esteso vi faccio vedere direttamente adesso su kickstarter il prodotto il prezzo come contribuire come aggiudicarselo eccetera bene vi lascio il link in descrizione arriverete con il link direttamente a questa pagina dove vedete tutte le caratteristiche del progetto tutte le fac eventualmente gli aggiornamenti che sono stati fatti nel periodo progetto che sta per scadere quanto bisogna mettere per sostenere il progetto e aggiudicarsi il proprio prodotto sostieni il progetto abbiamo diverse tipologie quindi contributo senza ricompensa oppure per prendere il prodotto circa 106 euro non ci sono molti prodotti disponibili perché poi lo step dopo e 110 euro lo step dopo e 115 euro dei prezzi comunque molto contenuti finché riusciamo a stare in questa fascia poi finiamo oltre i 200 euro adesso lo spacchettiamo facciamo subito due prove e vediamo come funziona e se funziona pacco che arriva direttamente dai laboratori dove vengono sviluppati e concepiti i primi prototipi dei nuovi prodotti ed ecco qua il nostro monitor aggiuntivo da 14 pollici confezione che sembra comunque già quella definitiva 14 pollici full hd compatibile con varie dimensioni di laptop da 13 a 16 e mezzo molti replici sistemi connessione type c angolo divisione 160 gradi rotazione del supporto da 0 a 230 gradi sistema di aggancio meccanico qui già l'anteprima null'altro se non degli esempi di montaggio sul retro abbiamo altre caratteristiche del prodotto tutti i dati di riferimento quindi non ci resta che aprirlo altri adesivi qui abbiamo un manuale utente velocissimo dove spiega appunto tutto il sistema degli agganci abbiamo dei pulsanti di comando ingressi che vedremo sono la mini hdmi la usb c jack audio e led di stato abbiamo poi quattro pulsanti menu uscita su e giù e la regolazione del supporto qui le istruzioni veloci per come montarlo tutto comunque ben curato quindi già pronti per la vendita ok qui abbiamo il nostro display inoltre abbiamo un po di accessori cavo type c tipo a una fascetta un ottimo cavo tipo c bello spesso a occhio e croce mi sembra circa un metro un metro e mezzo di ottima fattura connettore dorato un bel cavo qui abbiamo un cavo hdmi mini hdmi anzi no non si dice hdmi si dice hdmi in italiano perché sennò diventa tutto in inglese anche questo direi un metro e mezzo mini e standard dall'altra parte e qui un alimentatore viene dato in dotazione un banalissimo alimentatore 5 volte 2 ampere accessori finiti e qui arriviamo al nostro monitor aggiuntivo perfetto arriva protetto da una pellicola di salvaguardia marchiato crop view allora da notare subito una cosa particolare questa trama della plastica effetto satinato nero che comunque piacevole sia al tatto che alla vista formato appunto full hd 16 noni tutto il resto della struttura in plastica nera opaca lo spessore come vedete è molto molto fine qui abbiamo appunto la type c la mini hdmi jack audio pulsante indietro meno più e meno cosa abbiamo poi qua abbiamo tutta la parte meccanica quindi viene agganciato in questa posizione basta tirarlo fuori vedete che qui abbiamo tutta la parte della rotazione che include una doppia cerniera vedete che c'è questo doppio movimento con tutta questa rotazione abbiamo poi qui dietro uno stand regolabile appoggiarlo su una superficie qui abbiamo il primo aggancio vedete che a questa misura regolabile a molla per attaccarlo da una parte del display e dall'altra parte abbiamo questo che è a molla allungabile fino a dove necessario con questo sistema con questo meccanismo su cremagliera vi dico è molto molto robusto da tenere su e poi abbiamo anche questo attacco superiore per tenerlo in posizione questo attacco superiore fatto tipo l'aggancio degli zaini e può essere messo in questa posizione questo è quanto quindi basterà montarlo agganciarlo per avere il nostro monitor aggiuntivo non abbiamo una regolazione diciamo del flip orizzontale per correggere l'angolazione la sua inclinazione definitiva seguirà quella del monitor principale attenzione quando lo chiudete va sempre chiuso col monitor in avanti proviamo a montarlo allora prendiamo il mio portatile che è un 14 pollici con schermo touch vediamo come funziona il sistema di aggancio che sulla parte posteriore è dotata anche di questa gommina antiscivolo quindi apriamo il primo gancio lo inseriamo da un lato del monitor adesso cerco di andare in favore di telecamera da questa parte lo aggancio anche sulla parte superiore lo tiro un po avanti e poi non mi resta che agganciare la parte più lunga ok quindi lui è tenuto in posizione qua sopra e agganciato su queste due parti del monitor e vedete che abbiamo una cosa del genere ecco perché c'è lo stand perché il peso di due monitor se tenete la base ad esempio nel mio caso mi tiro giù lo schermo principale viene il nostro soccorso questo stand allungabile necessario per tenere su entrambi i monitor proviamo ad andare direttamente con la type c abbassi un po lo stand per farvi apprezzare anche l'immagine anzi abbassiamolo tutto lo mettiamo piatto viene immediatamente riconosciuto dal computer alimentato solo con la type c chiaramente questo va a diminuire l'autonomia del portatile stesso ma abbiamo già la nostra estensione funzionante stessa risoluzione in questo caso è un doppione del mio monitor vedete ma potremmo tranquillamente andare nelle impostazioni schermo andiamo a cambiare l'opzione duplica schermi e facciamo diventare estendi questi schermi manteniamo le modifiche questo è un windows 10 normalissimo allora in questo caso abbiamo come vedete lo schermo esteso allora questo ad esempio è un display touch ok questo ovviamente non è un display touch perché è solo un'estensione come colori posso dirvi che non è male è leggermente diverso dal mio principale come definizione per fare confronti dobbiamo in questo caso però tornare alla modalità duplicata lettura dei caratteri si vede molto bene come colori è leggermente più chiaro leggermente più luminoso di questo ma vi ricordo che abbiamo dei pulsanti per andare a fare delle regolazioni compare un osd dove abbiamo intanto la possibilità di cambiare subito la lingua quindi andiamo a cercare il linguaggio e abbiamo anche l'italiano possiamo modificare la posizione dell'osd e possiamo poi andare a cambiare ovviamente tutte le regolazioni come la luminosità che ad esempio in questo caso è molto alta è al 75 per cento la mettiamo a 50 che è un valore standard lasciamo il contrasto lasciamo tutto standard perché abbiamo anche la possibilità di avere una modalità eco testo gioco filmato alti fps rts eccetera lo lasciamo standard dcr nitidezza tutte le varie regolazioni del caso la saturazione la posizione dell'immagine la temperatura del colore la possibilità di modificare anche l'aspetto e la frequenza di singolarizzazione insomma spegnimento automatico abbiamo un sacco di modalità da impostare senza entrare nel menu col tasto più e meno accediamo direttamente al volume o alla luminosità ci siamo persi qualche impostazione importante no abbiamo la possibilità di scegliere l'ingresso la luce blu il volume mettere anche il mute va bene quindi queste sono le regolazioni che abbiamo nel menu ora che ho abbassato un po la luminosità diciamo è già molto più simile al mio monitor principale direi che per fare una prova andiamo a vedere un video ecco se proprio devo notarlo adesso non so se in telecamera si riesce a notare qui ho una temperatura colore un po più fredda qui leggermente più calda quindi all'occorrenza è da modificare perché chiaramente io qua uso una regolazione più fredda questo arriva con una simile naturale calda per lavorare correttamente bisogna avere i due display il più simili possibili per non avere questo effetto che altrimenti è fastidioso andiamo direttamente su youtube cerchiamo un bel video come risposta velocità eccetera lavora benissimo e più che il confronto diretto col mio monitor principale da 14 vi farei apprezzare lo schermo in questione beh comunque colori molto molto buoni una fluidità che non ha niente da invidiare diciamo il monitor principale fin qui direi promosso passiamo ora alla modalità invece lavoro il vantaggio può essere quello di avere un foglio di lavoro su uno schermo e magari un pdf o un altro file una pagina internet sull'altro quindi in un contesto di produttività l'estensione di un monitor di un notebook che è sempre risicato può essere molto comoda allora cosa succede se non vogliamo smontarlo succede che possiamo chiudere il primo monitor appoggiare il monitor sulla parte posteriore chiudiamo il nostro display e chiaramente le graffette dove andiamo ad attaccarlo vanno a dare un impedimento di chiusura completa sul monitor principale se è una cosa che usiamo spesso che vogliamo tenere in posizione possiamo tranquillamente appoggiare lo stand tenerlo in modalità di lavoro poi chiaramente possiamo tenerlo piatto per avere una visione diciamo più lineare o possiamo anche avere una visione più a immersione ma questo solo in base alle vostre preferenze togliamo di nuovo lo stand i movimenti sembrano buoni non ha particolari i giochi della plastica rimane ben stabile chiaramente come vi ho detto prima va ad influire sul peso e a sbilanciare la macchina principale ma è sicuramente utile in molti contesti perfetto si vede molto bene niente di eccezionale nessuna rivoluzione semplicemente uno schermo che andate ad affiancare al vostro notebook avete visto che sul mio funzionato subito con la type c senza problemi se non avete la type c potete usare un'uscita hdmi sfruttando il cavo hdmi mini hdmi in dotazione non ha le casse integrate ma l'uscita jack cosa vuol dire vuol dire che se lo collegate a una sorgente e sfruttate l'uscita hdmi e questa sorgente non ha già delle casse un'uscita audio eccetera potete sfruttare il jack in uscita dal monitor per attaccare delle cuffie o una linea che va ad un apparato amplificato di casse eccetera se non avete quindi la possibilità di usare la type c uscita hdmi e il monitor va alimentato con l'alimentatore e il cavo type c eventualmente avete poi un'altra type c da ponte che potete utilizzare per alimentare qualcos'altro insomma un prodottino onesto niente di innovativo all'ennesima potenza però sicuramente per qualcuno può essere utile se lo prendete adesso lo pagate poco più di 100 euro ci sono ancora una ventina di euro di spedizione è comunque un ottimo prezzo per un ottimo prodotto ci sono già in vendita cose analoghe ma di dubbia qualità questo l'abbiamo provato funziona bene si monta bene soprattutto ha una buona struttura che non dà problemi quindi consiglio mio affrettatevi altrimenti ci vediamo al prossimo video per vedere il prossimo video iscrivetevi al canale che gratis non costa nulla attivate le campanelline così sarete avvisati ci vediamo in una diretta prossimo video se passate negozio grazie ciao da massi d'apporto lì